Via! Per tutto quattro, quattro jumping jack, quattro squat, quattro shoulder plank, quattro piegamento e braccia larghe, quattro American push, a posizione, tre, due, uno, vai! Tutto sei, terzo e penultimo minuto, sei jumping jack, sei squat, sei shoulder, sei piegamenti, sei American, posizione, tre, due, uno, vai! Sui talloni, lo squat, non sulle punte. Ultimo minuto, tutto otto, otto jumping jack, otto squat, otto shoulder, otto piegamenti, otto American, in posizione, tre, due, uno, vai! Vedo sul tallone, se sbaglio i cascarimbi, la regui la testa, ok? L'appoggio dolcemente sul mio scroco. Stop! Posizione di plank.